... Kui sparo io Cui mi s'era messo in copertura con questi andati dietro alla doccia Uno è morto E Giorgio che cerchì da messo Sì, oh mio Oh mio Dio, questa non è la mia nave, scusate ragazzi Però non è un buco Ah, non è la chiave di una cripta, di faccio il resto Oh, no, 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 no Sto mangiando E sono morti di notte Visto che facciamo i marker bianchi ho continuato a sparare Per fare pressione C'è quello con il costume all'ombrico oceanico che è proprio lo stereotipo dell'ombrico oceanico Tu mi ripara, non gliel'è fa che niente Io lo spado quattro volte mentre mi ripara Non sarei più corto